L'esorcista è ancora oggi considerato uno dei film più spaventosi della storia del cinema, soprattutto grazie agli effetti speciali messi in scena durante la registrazione del film da Fredkin nel 1973. Ma come sono stati realizzati questi effetti speciali? Andiamo a scoprirlo! Partiamo con una delle scene più iconiche che hanno caratterizzato l'esorcista, ovvero la scena del vomito in faccia a padre Carras. Ebbene, sapevate che quella in realtà è zuppa di piselli? Esatto! All'inizio sceneggiatore e produttore non pensavano che molti spettatori avrebbero immediatamente indovinato di cosa era fatto il vomito, ma visto che in quel periodo quella specifica zuppa di piselli andava molto in voca, è stato un attimo capire immediatamente come era stato realizzato il vomito della giovane Regan indemoniata. Per creare l'effetto spruzzo che abbiamo poi visto nel film sono stati posizionati dei tubicini ai lati delle guance di Regan e coperti dal trucco e dalle protesi sulle guance per coprirli e non farli notare dalla telecamera. Partivano dai lati della bocca e percorrevano tutta la parte del volto fino dietro la nuca, dove erano collegati con un tubicino che gli addetti agli effetti speciali spruzzavano nel momento in cui Regan realizzava la scena del vomito e faceva il gesto di, appunto, vomitare la sostanza addosso al povero padre Carras. Pensate che la scena è stata realizzata con un solo Chuck. Infatti dopo diversi tentativi con un manichino hanno deciso immediatamente di girare la scena che doveva colpire il povero padre Carras in petto e non al volto. Sappiamo tutti come è andato a finire e il regista ha deciso di tenere il Chuck per il discusso sulla faccia dell'attore. Sappiamo tutti qual è un'altra delle scene più spaventose del film, ovvero la camminata a ragno della ragazza che scende le scale al contrario con mani e piedi. Ebbene, quella scena è stata all'inizio rimossa dal primo Chuck della realizzazione dell'esorcista in quanto non avevano la tecnologia abbastanza evoluta per eliminare le funi con le quali reggevano l'attrice. Ovviamente quella che vediamo sulla scena non è la vera attrice che interpreta Regan ma una contorsionista esperta aiutata appunto da dei cavi che sono stati poi inseriti successivamente nella director's cut perché nel primo Chuck, come detto nel 73, William Franklin decise di non inserire la scena perché si vedevano le cavi che sorreggevano appunto la contorsionista. Una delle curiosità più interessanti è quella della camera rifrigerata di Regan perché l'alito che vediamo durante quella scena è realmente realizzato per una differenza di temperatura in quanto William Franklin decise che la camera doveva essere veramente sotto lo zero e grazie all'ausilio di 4-5 condizionatori posizionati agli angoli della camera la temperatura è scesa addirittura sotto i meno 30 a meno 40 gradi centigradi facendo risultare quella stanza come il Polo Nord e la povera Linda Blair che interpreta Regan è stata quasi congelata per girare quella scena pensate che durante le riprese le goccioline di sudore degli attori diventavano piccole stalattite che si congelavano addosso alla fronte pensate la precisione che voleva William Franklin per girare questo film e la dedizione che ci ha messo nell'esorcista. Ormai sappiamo che ogni scena del film dell'esorcista è cult come il film stesso ovviamente vediamo se il secondo capitolo riuscirà a darci quella sensazione di orrore e di brivido lungo la schiena che ci ha regalato la pellicola di William Fetkin altra scena epica ed altro momento top della realizzazione del film è stata appunto la scena in cui Regan volta la testa di 360 gradi e sappiamo appunto com'è quella scena e l'abbiamo sognata penso tutti la notte e grazie alla tecnologia dell'epoca fatta a un mix di make up ed effetti pratici è stato realizzato un robot con le sembianze di Linda Blair infatti in alcuni scatti c'è Linda Blair con il trucco da indemoniata e il robot a fianco che è identico con il cacco della faccia di Linda Blair che potevano muovere a loro piacimento quindi la testa si poteva rodeare di 360 gradi per realizzare quella scena horror veramente che ha cambiato il cinema insomma effetti pratici del 73 hanno realizzato comunque un film che è rimasto nonostante tutto l'horror che più spaventa ancora oggi il pubblico quindi vediamo e incrociamo le dita per il secondo capitolo che arriverà tra settembre e ottobre e se vi è piaciuto questo video io vi invito ragazzi a seguirci per altre curiosità del mondo del cinema e trovate tutte le nostre news sulle pagine Facebook, Instagram e Youtube io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e da Ciacchiazione e da Valerio Perroni buona giornata